Lo scorso 18 novembre a Mi Manda Rai 3 è andata in onda una puntata sui buoni fruttiferi postali caduti in prescrizione il cui rimborso viene rifiutato da poste italiane. Con questo video coliamo l'occasione per informare i cittadini che i prassi di poste italiane addirittura non provvedere all'imborso di quei buoni fruttiferi cointestati a più persone dotati della clausola di pari facoltà di rimborso nel caso in cui uno dei cointestatari sia deceduto. Riteniamo che questa condotta sia illegittima e lo gridiamo a gran voce supportate da ben due diverse sentenze dell'autorità giudiziaria cosentina che ha riconosciuto a due risparmiatori possessori dei buoni fruttiferi postali e nostri assistiti il diritto ad ottenere un rimborso condannando poste italiane fino anche alla refusione delle spese legali. Quindi, prima di decidere di gestinare i vostri buoni fruttiferi, sebbene io sia sicura che poste italiane gli abbia fornito almeno 100 apparenti buone ragioni per indurvi a credere che non abbiate diritto ad ottenere il rimborso, fate lo sforzo di rivolgervi ai vostri figli legali di fiducia. Sono sicura che essi sapranno consigliarvi per il meglio. Grazie da Emma Iocca, avvocato del foro di coscienza.